Il 31 maggio del 1905 avviene in rogito la compravendita Peyton, Marianna, Vedua, Norman Neruda con Galanti, dottor Sebastiano, presso lo studio di Crespano Veneto del notaio Chiavacci Roberto. L'ipoteca tra Buchelli è ancora attiva, praticamente ancora c'è il debito che però ha messo nelle sue mani, c'è da pagare ancora la suocera, insomma compra il palazzo in maniera formale e si dirà successivamente che May trovò nell'avvocato Galanti la persona che sia per i suoi rapporti di debito con la venditrice, perché aveva evidentemente già acquistato appunto il debito de plant o forse aveva anche altri debiti, sia per ragioni di opportunità e convenienza a lui affatto particolari, quindi evidentemente anche Galanti aveva un tornaconto, si dichiarò disposto ad acquistare lo stabile per 14.000 lire, estinguendo le sue passività compresa quella della Vedo Vallè, sebbene ad essa alla fine rimarrà di fatto una somma lievemente inferiore, cioè praticamente la violinista non solo ha dato i 12.000 lire, ma si è trovata anche che queste 12.000 lire sono diventate 4.500, ma dal pagamento di tutto a Vilma rimarranno 4.285 lire, neanche le 4.790 che erano state stabilite con qualche aumento che era dovuto ovviamente agli anni che erano passati. Viene registrato questo atto il 30 agosto del 1905 e a settembre praticamente Galanti cancella e subentra nell'ipoteca Trabuchelli e comincia a estinguere praticamente le ipoteche, praticamente subentra nell'ipoteche a Vilma e a Vilma Marian e alla madre May e però a certo punto deve cominciare ad estinguere queste ipoteche e succede una cosa molto particolare. Nel 1906 il Comune fa un sequestro presso tre terzi, cioè una espropriazione praticamente forzata sui beni immobili del debitore che sono in possesso dei terzi, cioè praticamente in questo caso dei crediti del debitore nei confronti di terzi, cioè il Comune va da Galanti per pignorare praticamente le tasse, le tasse che non erano, più le multe, le tasse degli anni 904 e 905 che non erano state praticamente pagate. Quindi la debitrice, il terzo è l'avvocato Galanti a mezzo del quale viene fatto, cioè dove viene fatto il pignoramento e sono le somme da lui dovute a un debitore che è la vedova all'è, cioè sono praticamente le tasse che non erano state pagate rispetto alla questione delle ipoteche. Ma la questione comunque alla fine si risolve perché abbiamo un mandato, Vilma Norman Neruda, il 5 marzo del 1906 si dichiara saldata. Di fronte al viceconsole di Berlino nomina da una parte Luigi Biaten e ragioniere di Alberico come in quanto mandatario è direttore della Popolare di Asolo a far avere a Galanti la quietanza del saldo di 80 sterline per il suo maggior credito. Praticamente Vilma viene di fatto saldata nel 1906 di queste 4.400 lire. Ora comincia da questo momento la grande corsa all'acquisto di questo palazzo che al momento è nelle mani di Galanti. Il comune comincia a pensare di cambiare la sede comunale. Galanti nel frattempo si muove per raccitare Elvira Trabuchelli in tribunale per cancellare come dire per farle cancellare definitivamente quell'ipoteca. Cioè lui si disposta come dire prima loro cancellano l'ipoteca poi lui si dichiara disponibile a saldare questi 500 lire che gli sono rimaste. Salda praticamente ormai Vilma Lea e nel 1906 il palazzo di fatto è ormai libero da ogni tipo di ipoteca perché il credito è stato saldato e lo ha saldato già lui l'ha comprato e si ritiene saldato cioè si ritiene pagato e come dire si comincia a pensare di il comune comincia a pensare di nuovo all'acquisto che non gli è riuscito per tre volte. Ma il comune prima di arrivare praticamente ad acquistare il palazzo passa attraverso diverse possibilità inizialmente pensano di allargare sopra di far costruire sopra ma c'è una nuova una vera e propria protesta e qui siamo nel 1907 eh la commissione allornato non dà l'ok insomma eh assolutamente non mh sebbene avesse avuto come dire il placet di Treviso a fare questo questi lavori di allargamento della sede vecchia eh alla fine deve desistere nel 1908 viene proposto l'acquisto di palazzo Scotti dalla congregazione della carità palazzo Scotti è quello che poi invece siccome è comune non lo acquista verrà acquistato è Villa Pasini Browning verrà acquistato proprio da Browning allora nel 1908 ricominciano le trattative del palazzo mh come dire eh ex Neruda e Galanti dice che a questo punto è disposto a vendere la casa ex Neruda ma rispetto al 1905 le sue pretese sono aumentate in passato l'avrebbe ceduta al prezzo di costo ma adesso vuole di più perché lo stabile gli produce 1320 lire al nome che sono praticamente quello che gli viene dato dagli suoi affittuari cioè Galanti non ha comprato la casa per viverci perché aveva già a Villa Galanti cioè l'ex Belvedere ma semplicemente per affittarla quindi adesso vuole 25.000 lire anche perché è colui che lo ha praticamente come dire liberato da ogni canone livellario cioè ha tolto ogni tipo di ipoteca ehm mentre Treviso da delibera la prefettura per l'acquisto di Palazzo Scotti si comincia a a vedere se si può comunque convincere ricomprare il palazzo e vedere come dire se ci sono ehm delle possibilità di ehm sia che il palazzo si presti ad essere adattato ma anche di comprare questo questo palazzo Galanti infatti da una parte dice al comune che non lo vende meno che 25.000 lire ma sta nel frattempo facendo delle eh si sta ehm attrezzando per venderlo ad altri e qui succede una cosa molto particolare che oggi non credo che si possa fare praticamente il il comune a giugno dice che si presenta l'opportunità dell'acquisto di Palazzo Nero da ora di Sebastiano Galanti viene autorizzato il sindaco a trattare l'acquisto di questo immobile eh di cui si fa anche una relazione nel frattempo Galanti sta appunto in trattative per vendere il palazzo il comune fa queste trattative dice che il palazzo è di Galanti ma il 13 luglio del 1909 c'è un preliminare da parte del comune con i fratelli Fuga di Crespano quindi è evidente che Galanti e qui non c'è pervenuto ha fatto un preliminare di vendita con i fratelli Fuga che non è arrivato e il comune non chiede a Galanti non si mette perché evidentemente qualcosa lì non era non aveva funzionato gli aveva detto 25.000 lire il comune contatta i Fuga e fa un contratto un preliminare di acquisto con i fratelli Fuga che ancora non hanno fatto il rogito con Galanti quindi mh e infatti in questo preliminare con il comune i fratelli Fuga che sono degli esercenti sono anzi hanno un hotel praticamente che probabilmente volevano comprare il palazzo per farne un altrettanto albergo non vengono indicati come proprietari perché non sono ancora proprietari praticamente con questo rogito tra i Fuga che saranno i proprietari e il comune i fratelli si impegnano a vendere al comune per 20.500 lire quindi comunque è sempre una cifra inferiore a quella che Galanti gli aveva chiesto e il comune si impegna a pagare soltanto al momento della stipula del contratto quando avviene questa diciamo quando il comune stipula di effettivamente di vendere di acquistare palazzo Neruda il 16 luglio del 1909 cioè a pochi giorni di distanza dalla stipula di questo preliminare è la come dire la giunta delibera l'acquisto di una sede municipale per provvedere con un locale più adatto dagli ultimi acquirenti che lui chiama ultimi acquirenti che sono i fratelli Fuga di Curespano ma in realtà la compravendita Galanti Fuga cioè il passaggio reale del palazzo della proprietà da Galanti ai fratelli Fuga è del 20 luglio del 1909 cioè al momento in cui il comune fa la delibera non sono gli ultimi acquirenti perché loro hanno fatto semplicemente un preliminare per quanto fosse un accordo comunque non era ancora un roggito Galanti vende Fuga per 15.000 lire e i Fuga già si erano impegnati a vendere al comune per 20.500 lire a questo punto finalmente si chiude il problema come dire della della vendita del comune del palazzo si apre un altro capitolo i lavori comincia adesso un altro capitolo per il comune di Asolo che riguarda ovviamente la necessità di avere come dire una risposta e una da parte della della prefettura e sappiamo che ormai il il palazzo è di proprietà del comune la ditta viene accatastato la ditta Galanti la ditta Fuga e comunque alla fine come dire il prefetto deve comunque dare l'ok non soltanto all'acquisto della nuova sede municipale ma anche alla come dire al lavori che devono essere fatti eh sulla base ovviamente della relazione più in Italia che ancora una volta deve fare ehm deve fare eh il il nostro galeazzo Pasqualini eh il 25 del gennaio del 1910 il eh la prefettura di Treviso non vuole praticamente non soltanto la delibera ma anche il preventivo e il piano finanziario e fa una come dire una interessante appunto al sindaco Serena dice io voglio avere tutto perché questo palazzo è stato comprato da Neruda che è un cittadino inglese naturalizzato inglese nato in Svezia residente in 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 Italia e morto praticamente a a nell'impero austriaco quindi dice io devo avere tutti i documenti gli estremi catastali eh tutto quello che serve che è necessario per mh avere la certezza che questo palazzo possa essere una sede consona e legalmente possibile per il comune eh allora a febbraio del 1910 eh Serena il sindaco scriva al prefetto eh quindi eh parla dell'istanza di acquisto ehm e a questo punto parla anche del fatto che ci sono tanti lavori per la riduzione della sede municipale e si vuole chiedere a Pasqualini di fare soltanto i lavori più urgenti il 18 febbraio del 1910 la giunta abbiamo detto praticamente ferma tutto eh e chiede ulteriori ehm documentazioni allora di nuovo eh si iscrive a me che si trova ormai stabilmente a cortina dal 1905 certamente eh per avere tutti i documenti il certificato di matrimonio il certificato di rinascita ehm tutti i documenti personali eh la May dice che i documenti si trovano presso il suo avvocato che è Art di Londra ehm e che ovviamente sarà difficile averli e anche molto costoso ma lei nel fattempo fa una specie di relazione eh su quello che loro chiedono. Il 21 aprile del 1910 viene proposto il progetto di adattamento a sede comunale per il quale Pasqualini fa una preventivo di 16.500 lire e si decide comunque di dare ehm diciamo di dare avvio soltanto ad una parte e anche perché possa essere in qualche modo pagata ehm diciamo così quasi in qualche modo a rate. Ora ehm c'è anche il problema di come pagare poi ovviamente la nuova sede municipale come pagare i fratelli fuga di 20.500 lire eh non c'è soltanto il problema ovviamente ehm come dire ehm come dire la il fatto che eh eh treviso deve autorizzare l'acquisto ehm treviso da l'ok soltanto se il comune dà una documentazione che può garantire anche il pagamento. Il primo pagamento che viene fatto è un mutuo mutuo provvisorio alla Banca Popolare di Asolo il 14 maggio del 1910 per pagare questi 20.500 lire al mh i fuga. A questo punto treviso dall'autorizzazione all'acquisto il 6 giugno del 1910 e il contratto rogito viene stipulato l'11 luglio del 1910 tra i fratelli fuga di Crespano che vendono a mezzo del sindaco al comune di Asolo il palazzo sulla base della delibera del 16 luglio del 1909 con decreto della prefettura del 6 giugno del 1910. Testimoni sono Luigi Alberico Biadene direttore della Banca Popolare di Asolo eh e è presente anche il vecchio proprietario cioè Galanti che garantisce come da 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 la sua proprietà mh dalla compravendita che aveva fatto nel 1909 praticamente la libertà del compravenduto. Ora non c'è soltanto però il mutuo per ovviamente che è un mutuo c'è anche il problema dei lavori eh perché eh come dire il ehm quello ehm il mutuo per la banca popolare diciamo così di Asolo serve per anticipare il capitale per l'acquisto eh e eh questo questo non è certamente sufficiente per coprire ovviamente le spese per la per i lavori che pare a un certo punto ad aprile del 1910 sarebbero praticamente di 18.500 lire quindi si comincia a pensare di contrarre un mutuo con la cassa di depositi e prestiti ma ehm come dire nel frattempo a maggio del 10 il treviso dà l'ok per i 20.500 lire ma ci sono anche altre spese che il comune deve affrontare non c'è soltanto la la riduzione la sede mh come dire i i lavori per la nuova sede ehm comunale un altro mutuo e ehm il diciamo il mutuo dopo il mutuo provvisorio si pensa si pensa ehm diciamo a un mutuo per la cassa depositi e prestiti di ventimila ventinovemila e cinquecento lire eh per il praticamente per i lavori eh ma alla fine ehm c'è la delibera del 16 novembre del 1910 in cui il consiglio approva un mutuo generico di centoventimila lire nella quale fanno parte anche il la la cifra per i lavori e poi anche altre situazioni ovviamente ma la cosa interessante è che i lavori ancora non partono non partono perché a qualcuno viene in mente di poter vedere se si possa con con acquistare ehm la diacente casa quella che un tempo aveva anche preso in locazione Chiminelli eh che aveva preso in locazione neruda della proprietà di Chiminelli che adesso appartiene alla congregazione della parità della 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 carità per diciamo così per unire per allargare in modo tale che si possano fare tutti i lavori tutti insieme e quindi praticamente il il progetto di Pasqualini viene sospeso per trattare l'acquisto dello stabile adiacente ehm ma alla fine ci vogliono dei tempi molto molto lunghi e niente quindi alla fine il questa l'acquisto diciamo di questa seconda parte eh di fatto non andrà eh in non andrà non andrà in porto mentre è necessario prevedere tutta una serie di lavori perché ovviamente eh una casa non si presta bisogna praticamente renderla sede comunale ehm e fare ovviamente tutta una serie di lavori eh per creare degli uffici eh e Pasqualini dice che bisogna fare una nuova scala bisogna alzare una parte chiudere una terrazza ehm e poi ovviamente mettere il termosifone ehm alcuni in alcune sedute Sebastiano Galanti che nel frattempo è entrato in giunta vota contro insieme a Luigi Biatene perché ritiene queste spese eccessive ma alla fine il 17 maggio del 1911 il prefetto arriva ehm approva definitivamente questo progetto ehm e quindi eh bisogna comunque eh nel frattempo che questo mutuo di 120 mila lire non va avanti perché è molto come dire è molto lungo bisogna chiedere un altro mutuo provvisorio e stavolta viene chiesto mh praticamente con un accordo all'esattore all'esattoria perché rispetto alla banca che mh al tasso diciamo di interesse della banca l'esattoria concede un tasso migliore e e quindi praticamente eh si può procedere a pagare questo primo a fare il primo capitolato d'appalto per questa prima lavoro di di ehm come dire di dei lavori per palazzo Neruda e siamo a giugno del mille e novecentododici eh ci sono le rampe per le stale in cemento armato in tonacato le finestre i vetri il parapetto l'allargamento del fabbricato la riparazione del vestibolo la la i gabinetti ovviamente i bagni eh sono necessari la sala principale che viene nuovamente risistemata alcune alcune eh come dire il vecchio solaio che viene demolito ne viene costruito uno nuovo ehm poi i tramezzi il balcone che deve essere messo in comunicazione con le altre stanze eh eh questi lavori procedono per una prima parte e poi per una seconda che viene deliberata a settembre del millenovecentododici eh ad aprile del millenovecentotredici i lavori vengono deliberati per procedere quindi stiamo ancora molto avanti eh possiamo ipotizzare che comunque dopo la prima parte del dei lavori il comune sia entrato in questo in questo stabile perché a un certo punto quando verrà inaugurata la linea a solo Montebelluna eh praticamente si parla di inaugurazione anche della nuova sala quindi a un certo punto il comune entra di fatto nella nella nuova sede anche se i lavori un po' come ha fatto Neruda non sono praticamente eh terminati ehm alla fine anche questi lavori li eviteranno in una maniera esorbitante eh si parla di una preventivo di spesa minimo e alla fine si si arriverà a una quasi a quaranta mila lire di eh di spese eh di tanto è vero che quando a un certo punto il quattordici aprile del millenovecentotredici viene fatta la consegna definitiva ovviamente si dice che serve ovviamente anche il collaudo eh e ehm come dire questo collaudo dovrebbe essere fatto sostanzialmente da eh Treviso ma quando a Treviso eh arriva al millenovecento dopo gli ultimi lavori c'è il termosifone eh arriva la richiesta di collaudo e siamo alle soglie della della prima guerra mondiale al tre di ottobre del millenovecentoquattordici il come dire il prefetto dice vabbè eh trovatevi qualcuno che faccia il collaudo va fatto noi non ci prendiamo questo questo i prezzi sono stati sono praticamente triplicati eh fatevi il collaudo tra di voi e verrà incaricato Pasqualini per fare il collaudo insieme ad un'altra ditta e si chiude praticamente eh con il certificato di eh di collaudo del sette dicembre del millenovecentoquattordici ehm la questa questa parte il quattordici gennaio del millenovecentoquindici verranno approvati verrà approvata la liquidazione dei lavori di adattamento a nuova sede municipale e con il pagamento anche a Pasqualini diciamo così eh e a Bernardi alla ditta che fa questi lavori a marzo del millenovecentoquattordici si chiude definitivamente questa telenovela praticamente della eh del palazzo Neruda e dell'acquisto del palazzo da parte del comune Grazie a tutti Grazie a tutti